Di moi merci, vandevo, 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 puoi c'è La tavola! Se la sfida è le sette e mezza, le otto tocca a sta tavola, le otto su sta tavola Ma vedi che perfettino, ma da quando sei così perfetto te? Regà Giulio ha dormito bene stanotte, domani c'è una sfida? Ma secondo me come sarà sta sfida, cioè nel senso i giudici? Sì, sì Io spero sia la squadra, regà, almeno c'è un po' più di poesione Però oggi ricavetevi o sì? Sì, oggi ci dobbiamo mettere sotto e... E mo' che ci abbiamo da fa' stamattina, non si sa, il diario è ancora... Da me è ballo perché... Vabbè sì regà, manca molto ballo Ah, è vero, ballo Ballo e make up Ah, ballo oggi c'è la seconda corruzione da imparare il sabato Cioè la più difficile l'abbiamo fatto noi No regà, io la passo Buongiorno Talent, andate a prendere la Smemo Gold nel confessionale? Finalmente è venerdì! E si è conclusa la prima settimana Dieci e mezza, undici e mezza, moda Dai, è tranquilla Undici e quarantacinque, mezzogiorno e quarantacinque, danza Dalle quattro alle sei, attività skill, murales Poi dalle sei alle otto, nail art challenge, odore di unghie regà, ma non è finita qui Dalle otto in poi abbiamo la cena, la prima sfida del sabato Puntini 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 Ciao Talent, la sfida di domani è alle porte Sarete divisi in due squadre Doverete affrontarvi a colpi di TikTok Inizierete con una start challenge che decreterà l'argomento del primo round e chi vi parteciperà Il secondo e terzo round saranno decisivi per l'eliminazione Impegnatevi tanto, crediamo in voi Dai, dai, dai Buongiorno Buongiorno Che stile Visto la prima lezione che abbiamo avuto l'altro giorno Che è comunque stata una lezione di prova per voi Oggi cerchiamo di prepararci un pochino di più per domani Quello che facciamo oggi è costruzione e look da giorno per tutti Noi trucchiamo a loro Adesso facciamo prima il contrario, loro truccano voi Dovete sostanzialmente pulire e idratare tutto il viso Centro Movimenti circolari Sere, devi essere concentrata Eh no, concentrati te che mi spondi in occhio più calmo No, devi stare calma Madonna Giulia, io ti vedo bello impedito Concentra Chiudi gli occhi Poi vieni in so Siamo Chi stai fai? I disegni che stai facendo all'asilo Guarda la No Ciao a tutti Buongiorno Buongiorno Oggi siamo cari Sì Comunque io lo smemo gold Quindi cosa vuol dire? Chi sbaglia io lo segno tutto ragazzi Do le note Allora cosa volevo dirvi? Ma siete pronti per domani? Avete studiato? Facciamo il riscaldamento brevissimo Perché ci tengo onestamente che arriviate più preparati possibile domani Che alla fine la puntata la fate voi Vai lungo Dai, dai Ha la schiena rotta Vai, brazzo verso la gamba Giulio Sì ho capito, non ci arrivo Quello è bello Forza droga Ragazzi comunque siamo veramente storti Ci abbiamo un pallone e famo tutti i passaggi a carcio Quali pallone? Prendiamo un po' un mocio che qua te la fa la Non mi interessa che domani chi non fa danza la faccia benissimo Mi interessa che portiate a casa la coreografia Per dirvi mettete la vostra personalità A prescindere divertitevi Sappiate i passi Vi prego Se no mi fate male E basta È la fluidità nel movimento che fa Grazie Bravi, fatevi un applauso Non mi interessa se avete sbagliato Grazie della lezione Domani uno di voi verrà eliminato Ma solamente alla fine di un percorso che vi ha fatti crescere Che vi ha aiutato, vi ha fatto conoscere persone nuove E sicuramente vi ha fatti maturare e responsabilizzare Ok? Merda! 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 Dai ragazzi Disegnati, colorati Pronti? Vediamo che ci hanno detto i nostri Game Masters Ciao Talent Oggi pomeriggio vogliamo darvi carta bianca E farvi sbizzarrire con i colori Davanti a voi trovate un foglio su cui dovrete raffigurare cos'è per voi l'inclusività I diritti umani sono un tema caro a Smemo Così come lo sono i diritti civili Infatti nel 2007 ha dato vita alla fondazione Smemoranda Una realtà no profit impegnata nel sociale E ha spesso partecipato attivamente al Gay Pride Inclusività è un termine molto ampio Per questo vi chiediamo di concentrarvi solo su alcuni aspetti Essere inclusivi è non discriminare in base alla provenienza o al colore della pelle di una persona È dare pari opportunità e uguale trattamento a tutti a prescindere dal sesso È non offendere o escludere qualcuno solo per il suo orientamento sessuale o di genere Inclusività è anche creare una società che sappia coinvolgere e aiutare persone portatrici di handicap Oggi vi concentrerete sul dare forma al murales e iniziare a colorare il disegno Diamo ufficialmente il via alla vostra creatività I Game Masters E Mario al duro Tocca fare un po' brainstorming Martin Luther King ci può stare? Eh sì, ci sta con tutto il discorso di Eva Dream Bello, bello, bello Martin Luther King Uguale trattamento a tutti a prescindere dal sesso Quindi insomma il femminismo Eh Monica, facciamo Frida Kahlo Non escludere qualcuno solo per il suo orientamento sessuale o di genere Facciamo la bandiera LGBT Persone portatrici di handicap Quindi sì, andiamo sulle Paralimpiadi Uniposca alla mano e let's go Oh raga, fatto Finito Ci siamo Ragazzi Mazza Questo è il lavoro finito Questo è il risultato per la prima settimana Poi nelle altre settimane andremo a colorare Frida E l'atleta E la bandiera E l'atleta Quindi mi raccomando seguiteci Seguiteci per vedere il risultato finito